La presentazione del libro Francesco, il Papa delle prime volte, è stata curata dall'UXI, Unione Cattolica Stampa Italiana, in un incontro con gli autori Gerolamo Fazzini e Stefano Femminis, che ha avuto luogo alla libreria Feltrinelli di Verona e animato dal presidente dell'UXI Stefano Filippi e dal giornalista dell'Arena Enrico Giardini, nel giorno e nell'ora del quinto anniversario dell'elezione di Papa Bergoglio. Il libro affronta la figura di Papa Francesco, primo pontefice gesuita e sudamericano, innovatore, pioniere della Chiesa Cattolica, che vuole riportare la religione alle origini. Il libro ha il significato di provare a andare a scavare un po' in questi cinque anni di pontificato per capire quali sono le novità che ha portato questo Papa e come vadano interpretate, perché alcune sono state molto caricate dei media, ma non sono così importanti, altre invece che pure sono molto importanti, se non decisive, sono state a volte quasi dimenticate. Fondamentalmente le tre novità più importanti di questo Papa, lo sappiamo, sono il fatto che viene dal Sud America e precisamente dall'Argentina, dal fatto che è il primo gesuita nella storia ed è il primo che ha voluto chiamarsi Papa Francesco. Allora se noi teniamo presenti questi tre elementi, è più facile decifrare tutte le altre prime volte, sono davvero tante, che Papa Francesco ha compiuto un gesto che mai nessun Papa aveva fatto nella storia. Un gesto, un incontro, un viaggio, ha avviato alcune riforme che non erano ancora state fatte, ha creato delle strutture che non c'erano ancora, ha nominato dei cardinali di paesi che non avevano mai avuto nessuna rappresentanza all'interno della Chiesa. Quindi tutta questa serie di novità alla fine si riconducono a questa scelta fondamentale di essersi voluto chiamare Francesco e, dicevo prima, al fatto di avere un'identità molto particolare che fa riferimento proprio alla sua provenienza se vogliamo geografica ed ecclesiale sudamericana e in particolare Argentina e al DNA gesuita che comunque rimane fondamentale nella comprensione di Francesco. L'opera di Fazzini e di Femminis offre un'immagine di Papa Bergoglio innovatore e deciso a mettere la centralità del Vangelo nella Chiesa, nella società e nelle relazioni quotidiane. In questo lavoro editoriale agli autori non è mancato il materiale. Non è stato facile fare questo lavoro di ricostruzione, di, come dire, non è stato facile ripercorrere tutte le prime volte del Papa, che sono tante e il libro non vuole assolutamente aver la pretesa di citarle tutte. Non abbiamo voluto fare un'enciclopedia in questo senso. Abbiamo voluto fare piuttosto un lavoro di selezione per capire di queste prime volte quali sono quelle veramente significative, quelle che ci dicono qualcosa di particolare su questo Papa. appunto alcune volte ci sono delle prime volte di cui tanto si è parlato sui giornali, in televisione, ma sono più forse delle curiosità, mentre magari altri inediti, altre sorprese del Papa sono passate sotto silenzio, ma invece dicono molto del suo desiderio di riportare la Chiesa alla radicalità del Vangelo, di riportare la Chiesa ai credenti e di presentare anche ai non credenti un volto della Chiesa che sia più radicale, più autenticamente evangelico.